Non avete alcun dubbio che con le orecchie avete lavorato, siamo d'accordo su quello, però quello che è meno chiaro è che cosa abbiate fatto con la testa. Sicuramente queste sono composizioni molto complesse, se cominciassimo ad analizzare da questa complessità non si capirebbe niente. Bisogna servirsi spesse volte per capire questo intervento della nostra mente da esempi che sono semplicissimi. Questo che guardate che vale anche per la terza elementare. Se io faccio un tracciato così, che cos'è? La risposta principale, guardate, un 80-90% è un rombo. E se fosse un parallelogramma? E se fosse un quadrato? State buoni. Voi sapete che ogni volta fate delle operazioni differenti, con il rombo fate questo e guardate una certa eguaglianza, poi fate anche dell'altro, col parallelogramma, guardate il parallelismo di questi lati opposti. E così si può andare avanti, qualcuno vede un quadrilatero, qualcuno vede un tavolino che ha le gambe dalla parte di dietro e che non vedete. È sempre la nostra mente che lavora. Adesso però vi faccio vedere un esempio che io considero straordinario. Sui sentile Paola, prova a girarmi le pagine. Ho voluto tenervelo nascosto perché se non lo sapete è veramente molto molto bello. Forse è dietro, eccolo qua. Penso che sia qui. Eccolo. Io spero si veda fino in fondo. Allora di quanto è più grande questo pezzo che sta sotto? Di 5 centimetri? È uguale. Ma siete... 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 Sì, lezio. Allora cambiamo la domanda. Supponiamo che sia uguale. Ma perché sembra più lungo? Eh... No, 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 non è girandolo così. Sembra più lungo perché voi non ve ne accorgete ma in quanto prendete questi come dei settori di cerchio, di anello voi guardate anche un centro qui non c'è segnato il centro ma voi con l'occhio siete qui e che cosa fate? Fate due angoli fate quest'angolo e andate qua poi fate partendo dalla stessa linea andate qua e siccome valutate sull'angolo che fate non c'è storia che quello di sotto appare più grande e d'altra parte dico appare, sembra perché dall'altra parte contrappongo la spanna o il metro un giorno venne a trovarmi un personaggio molto grande un grosso ministro e è abituato a essere imbrogliato ma ha detto cecato tu mi imbrogli e si è tolta la cravatta per misurare e effettivamente sono assolutamente uguali ma è difficile convincersene ecco se non sapete queste cose vi fate imbrogliare e va anche bello farsi imbrogliare perché tutti i musicisti adoperano le illusioni acustiche noi adoperiamo le illusioni ottiche le illusioni coloristiche state sicuri che le vostre mamme e anche voi tra qualche anno ma già adesso forse se ragazze voi studiate l'accostamento dei colori e i colori cambiano a seconda dell'accostamento ma perché non è che siano accostati lì sono accostati qui vi è abbastanza chiaro questo? dimmi Paola credo che questo sia chiaro per tutti ma volevo chiedere professor Ceccato come colleghiamo questo concetto alla zigana di Ravel? dovesse a Milfoglio che vediamo di fare un altro esempio adesso vi mostro come ci si inserisca partendo da queste osservazioni di cronaca ci si possa inserire in un'arte in un'estetica e soprattutto in una danza supponiamo di avere un tracciato di questo genere e diciamo che rappresenta i nostri passi noi camminiamo allora ogni volta che tocchiamo qui mettiamo giù mettiamo giù il passo pom 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 e camminiamo però se noi marciassimo che cosa succede? e allora introduciamo e di questo parlo tanto spesso ma dovete fosse anche sentito introduciamo il ritmo il ritmo si ottiene perché il passo precedente è trasferito sul successivo altrimenti non c'è ritmo quando in musica e questi lo sanno molto bene hanno le battute qui tempi forti tempi deboli per sentire il debole devo ricordarmi il forte nella rima se devo rimare devo mantenermi la parola precedente e quindi abbiamo che questi elementi si sommano con questi però è una danza la marcia dei bersaglieri è una danza la marcia degli alpini è una danza? no che cosa devo aggiungere per vedere in una linea così una danza? e allora salta fuori una risposta molto semplice sapete che voi adoperate il movimento per spostarvi tenendone conto quindi questo non diventa più un semplice alzare il piede per poterlo abbassare ma studiate l'alzare e l'abbassare e avete una danza leggera per esempio un passo leggero c'è una frase in Puschi dice camminano marziano no dice sembra che danzino perché c'è questo senso di leggerezza ecco aggiungete questo e se volessi invece che una danza di tipo leggero il gopac dei russi allora aggiungete il pezzo che cade che picchia dentro e noi seguiamo i movimenti del corpo chi danza segue i movimenti del corpo questo è importantissimo perché è un equilibrio nuovo che noi otteniamo ecco come voi avete sentito su suggestione di un grande musicista come Ravel avete sentito la danza la cigana è una danza una danza ungherese che però sicuramente in Ravel Ravel è un uomo che proviene a una mamma spagnola sicuramente ha elementi portati dentro non solo dagli cigani ma io credo almeno dai gitani cosa volevi dirmi? potrei fare una domanda abbiamo visto quindi l'importanza del ritmo ma è soltanto questo il motivo per cui alcuni tipi di musica gitana zigana spagnola vengono imitati? la domanda è una domanda complicatissima perché i rapporti fra musica gruppi etnici epoche è una risposta che ha interessato moltissime persone in generale una vera e propria risposta convincente non c'è c'è una cosa però che vorrei dirvi questo elemento cigano gitano che si sente come struggente da che cosa proviene? ma io ho una piccola ipotesi ve la suggerisco quando noi mettiamo queste battute questi tempi abbiamo la possibilità che ciò che precede uno di questi tempi sia trattenuto sia frenato per cui poi si sfrena come lo tiene Ravel come lo ottengono in queste danze con dei temi che puntano molto sulla stessa nota e ruotano intorno alla stessa nota allora io il tema lo porto a gonfiarsi ma lo riporto avanti attraverso un movimento melodico che è dello stesso tipo vedo che ci ha anche consigliato un esempio pittorico ce ne potrebbe parlare? ma io credo che in qualche cosa di quello che vi ho detto voi lo ritroviate guardate che cosa c'è intanto intanto abbiamo un tentativo di salire queste mani che si rivolgono all'alto al tempo stesso poi sono bilanciate da queste foglie che cadono io direi che il salire e il scendere qui è abbastanza vivo e c'è questo elemento anche ebbè è vivo sono colori ruotanti sono colori caldi quel mondo zigano il mondo spagnolo che dà questo senso prima di eccitazione e poi di languoroso di struggente io penso che quel quadro se lo volete vedere così intendiamoci perché in quanto quel quadro è abbastanza neutro secondo me è abbastanza neutro se lo volete vedere per esempio con questo elemento struggente dovete aggiungere molto del vostro ma non è che qualcuno che poi si sente così non lo aggiunga sempre ecco per cui avete un esempio molto preciso di che cosa possa voler dire l'assumere noi un atteggiamento io voglio vedere Matisse come elemento struggente e lo vedete come elemento rutilante come qualche cosa che scoppia siete voi che lo potete vedere e sicuramente se potessimo parlare ognuno di voi l'ha visto in un modo un po' differente proiettando se stesso su quel quadro dopo aver visto il quadro avrebbe qualche esempio anche magari poetico prima di tornare a riascoltare il brano di Ravel io vi direi che io ho trovato non l'ho trovato in esempio ungheresi anche perché forse passando la letteratura si trova tutto però l'ho trovato in García Lorca che invece rappresenta più la Spagna e vi leggo sono pochi versi ma che mi sembra che diano questo senso di leggero incubo di cosa che si carica che si gonfia e che si sgonfia guardate è preso dalla romanza della Guardia Civile Spagnola e dice oh città dei gitani chi ti ha visto e chi non ti ricorda città di dolore di muschio con le torri di cannella quando veniva la notte notte che notte di notte i gitani nelle loro fucine facevano soli e frecce ed ecco che questo chiuso questo elemento di lavoro questo elemento di impegno si contrapone a quel vuoto di questa notte che però in queste parole è sicuramente accesa grazie adesso vi sentite la musica